Una scoperta rivoluzionaria che nel giro di un anno potrebbe portare alla creazione di farmaci risolutivi per la cura dei tumori e ai primi testi di verifica sui risultati. E l'impresa di un expat catanzarese, un cervello espatriato dalla Calabria, che in California, a due passi, e si fa per dire da silicon, ha applicato la tecnologia alla scienza. Il merito alla ricerca, alla sperimentazione, alla medicina, nella sua branca più salvavita. Con il gruppo di ricerca, da lui coordinato, il 45enne catanzarese Davide Ruggero, professore dell'Università della California San Francisco, ha scoperto che è possibile soffocare i tumori, togliere loro nutrimento e farli regredire colpendo esclusivamente le cellule malate. Nel dettaglio è emerso che è sufficiente dimezzare la produzione di una proteina vitale per l'uomo, ma soprattutto indispensabile per le cellule malate, per attivare la poloriferazione dei radicali liberi che finiscono per distruggerle. La scoperta pubblicata sulla rivista Celle si deve al gruppo di ricerca coordinato dallo scienziato calabrese e potrebbe aiutare a mettere a punto nuove terapie contro il cancro.